La sua richiesta d'aiuto gridata a squarciagola e ripetutamente ha attirato l'attenzione di molti in centro a Taranto. Sono stati vissuti momenti di tensione, un episodio che sta facendo discutere, ripreso e lanciato sui social, adesso diventato virale. Un uomo oreo di aver parcheggiato il furgone della ditta di spedizioni per la quale lavora sulle strisce pedonali è stato fatto uscire dal mezzo e bloccato con la forza dai vigili urbani. Il perché? Pare si sia rifiutato di consegnare i suoi documenti. Numerosi passanti che si sono schierati dalla parte del giovane e hanno chiesto ai vigili di fermarsi. A sedare gli animi l'intervento poco dopo della Polizia di Stato, l'episodio non è passato inosservato, i consiglieri comunali di opposizione Massimo Battista, Luigi Abate e Francesco Battista hanno presentato un'interrogazione al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, all'assessore e al comandante della Polizia Locale chiedendo una dettagliata relazione su quanto accaduto e sugli eventuali provvedimenti immediati che si intendono applicare nei confronti degli agenti coinvolti. Abbiamo assistito, scrivono, ad una reazione fisica apparentemente violenta e sproporzionata posta in essere da questi vigili. Crediamo che questo non sia il modo di controllare il territorio.